Con questo video voglio fare due cose. Uno, aiutare tutti gli youtuber alle prime armi, quelli che hanno aperto da poco il loro canale YouTube e che non hanno idea di cosa possa servire per creare un buon video su YouTube, quali microfoni acquistare e su quali puntare per la propria tipologia di video e tutte le altre informazioni del genere. E come seconda cosa invece voglio dimostrare una volta per tutte che non serve chissà quale attrezzatura per creare dei bei video e per avere un bel canale. L'avrete sentito sicuramente un sacco di volte già da altre persone ma sono sicuro che alcuni di voi avranno sicuramente risposto se vabbè è sempre la stessa storia, poi loro hanno videocamere da mille euro, microfoni da 5-10 miliardi di euro e invece no. Questa storia deve finire quindi oggi faremo anche un viaggio nel tempo e vedremo quali prodotti io avevo quando ho iniziato con zero iscritti, quali di questi prodotti uso tuttora per fare i miei video, fidatevi sono tanti. Ah, tra parentesi, non ci sarebbe bisogno di dirlo ma lo faccio comunque, io sto solamente cercando di darvi i miei consigli basati sulla mia esperienza di 5-6-7 anni di YouTube. Ho ancora tantissimo da imparare dai migliori, non sono sicuramente il più bravo però alcune cose le ho capite e sicuramente potrò dare dei consigli che io avrei voluto di certo sapere quando ho aperto il mio primo canale. Incominciamo subito da quella che io definisco la cosa più importante, chiunque può partire con l'attrezzatura che ha a disposizione. Lo so che tanto alcuni di voi non ci credono ancora, quindi per dimostrarvi il tutto vi faccio vedere una foto risalente ormai a lontano 2016. Ebbene sì, questo era Fede Tutorial, ero io 4 anni fa che facevo video su YouTube. Prendo un attimo la foto anch'io e la commento insieme a voi perché è fenomenale. Tralasciando il disordine del mio cosiddetto studio del tempo, come vedete registravo con il mio smartphone, a quel tempo era un iPhone 7, un piccolo treppiede per smartphone, uno scatolone Macron come treppiede che non ha fatto da sponsor per questo video, un paio di luci, un microfono, una sedia e basta. Ah e tra l'altro dopo 4 anni la sedia è ancora qua. Ma non vi ho detto ancora la cosa più importante di tutte. Indovinate un po' quanti iscritti avevo a quel tempo quando ho scattato la foto? 0, 5, 10, 20.000 iscritti. Cioè ve lo immaginate 20.000 persone che hanno deciso di iscriversi a un canale con... che faceva video con uno scatolone insomma. Ebbene sì, perché lo ripeterò sempre fino alla fine, l'importante è che trattiate argomenti interessanti, che piacciono alla gente, che siate bravi voi e che facciate semplicemente il meglio con quello che avete. Quindi andando avanti con il video vedrete sicuramente tanti prodotti costosi. Ma ricordatevi sempre che io sono partito come tutti senza niente. E non solo io ovviamente, tutti, tutti quanti hanno fatto così. E poi piano piano, sapendo quello che bisogna acquistare, mettendo un po' di denaro da parte ogni tanto, si può reinvestire tutto in nuove attrezzature per fare video ancora migliori. Partiamo sicuramente dal reparto fotocamere e videocamere. La mia prima videocamera in assoluto, come avete visto, è stato il cellulare, l'iPhone 7. Se non avete nulla, iniziate con quello. Veramente, ormai anche i cellulari più economici registrano in 1080p, 60fps, addirittura moltissimi anche in 4K. E non vi serve nient'altro. Come videocamere siete fortunati perché forse è la cosa più economica in assoluto, perché probabilmente avete tutti uno smartphone. E quindi, almeno inizialmente, potrete risparmiare tanti soldi. Una domanda però che mi fate spesso è quale fotocamera mi consigli come prima fotocamera del canale? Non voglio spendere tanto, ovviamente, ma voglio che mi faccia un po' di tutto, che abbia una buona qualità. Cosa mi consigli? Beh, quella che ho acquistato io, ovvero la Sony RX100. È una fotocamera compatta della Sony, quindi non potete cambiare le lenti, ma per iniziare appunto va benissimo. La mia versione precisa è una Sony RX100 M2 che in più rispetto alla RX100 normale ha una connessione Wi-Fi per inviare video e foto allo smartphone o al PC tramite appunto Wi-Fi. Però l'ho usata veramente pochissimo e se volete spendere ancora meno vi consiglio la RX100 normale che costa di meno e ha lo stesso identico sensore. Possiedo questa fotocamera da circa 3 anni ormai e ci ho fatto tantissimi video, quasi tutti, tutti quelli che vedete sul canale. e poi ho fatto un upgrade pochi mesi fa, a settembre circa, quindi veramente poco tempo, acquistando la videocamera che mi sta riprendendo in questo momento, che è una Sony Alpha 6400. Dopo 3 anni di utilizzo di una compatta volevo cambiare ed acquistare qualcosa di diverso, magari con lenti intercambiabili, ma non avevo trovato quella che faceva per me. All'uscita però della Sony Alpha 6400 ho detto questa potrebbe essere veramente la fotocamera che fa al caso mio. Ha lo schermo che si può ruotare di 180 gradi, utile per esempio se fate vlog, o anche in questo momento, io ce l'ho aperto lì sopra di me, vedo se l'inquadratura è a posto, se sta registrando, e in più posso fare degli upgrade sostituendo le lenti. Per ora sto utilizzando quella predefinita che vi danno insieme alla fotocamera, sto pensando di fare un upgrade, ma prima devo informarmi, devo chiedere a chi ne sa più di me, perché io sono veramente totalmente inesperto di lenti, e devo capire quale acquistare. Vi consiglio di acquistare anche un kit con due batterie in più, ve lo lascio sempre qua sotto in descrizione, perché è ottimo, le batterie servono sempre. Mentre la RX non l'ho venduta, continuerò ancora ad usarla per riprese secondarie, magari riprese dall'alto, per unboxing, sto un po' organizzando il tutto, e sono due ottime fotocamere, ve le consiglio. Ovviamente tutti i link ai prodotti li trovate qua sotto nella descrizione. Passiamo ora al reparto che secondo me è più importante di tutti, ovvero quello dell'audio, dei microfoni. Infatti è più facile vedere un video che ha una bassa qualità video, ma un'alta qualità audio, rispetto al contrario. Quindi una bassa qualità audio e un'alta qualità video. I microfoni su cui vi consiglio di puntare sono di tre tipi. Ci sono i microfoni a condensatore, i microfoni a shotgun, e i microfoni lavaliero. Io li posseggo di tutti e tre i tipi, quindi posso dirvi quale vi consiglio in base al tipo di video che fate. C'è un microfono in particolare della prima categoria, quelli a condensatore, che utilizzo ormai da sei anni, da veramente tantissimo tempo. Si tratta del Blue Yeti, che tra parentesi è lo stesso che vedete sulla foto iniziale. Quindi sì, lo uso da tanti tanti anni. Questo tipo di microfoni, come anche il Blue Yeti, danno il loro meglio se parlate abbastanza vicino, il più vicino possibile al microfono. Quindi può andare bene anche come lo utilizzavo io tempo fa, vicino un po' in basso, senza che vada a coprire l'inquadratura. Tra l'altro era l'unica opzione che avevo, quindi dovevo arrangiarmi in qualche modo. Adesso invece lo utilizzo in particolare, ed è perfetto per questo scopo, per realizzare dei voiceover. Quindi per fare quei video, per esempio una top app, dove non ci sono io che parlo così in questo modo, sul tavolo, ma descrivo solamente delle clip una dietro l'altra, beh, lo faccio proprio con il Blue Yeti. È un microfono fenomenale che hanno tantissimi altri youtuber, lo utilizzo da tantissimi anni, ripeto, potete usarlo per esempio anche se fate dei podcast, è perfetto per quello scopo. E poi è facilissimo da usare. Ha una porta USB che potete collegare direttamente al vostro computer, avviate un qualsiasi programma di registrazione, come per esempio Audacity, oppure Adobe Audition, quello che volete, e iniziate a registrare il vostro audio, ed ha una qualità pazzesca. Poi ho comprato il mio primo microfono lavalier, che è un Rode Lavalier Smart Plus, mi sembra, che è questo qua, nella sua bustina Rode, che vi danno in confezione, e si tratta di questo tipo di microfono molto molto piccolo, che semplicemente va attaccato alla maglia, alla camicia, a quello che volete, e anche lui ha una buonissima qualità, ed ha un cavo jack, quindi potete attaccarlo per esempio direttamente al vostro smartphone, poi ve lo mettete in tasca, ed è perfetto appunto per riprese del genere, dove vi muovete, state in piedi, non potete parlare diretti, fermi, su un microfono come il Blue Yeti, e in quei casi, questo è veramente perfetto, non si vede, quasi piccolo, ha una buonissima qualità, e ovviamente, se fate molti video del genere, magari all'aperto, in mobilità, ve lo consiglio tanto, e vi lascio il link qua sotto, in descrizione. L'ultimo microfono, che ho acquistato in ordine cronologico, è quello che sto utilizzando, in questo momento, ed è un microfono di tipo shotgun, voi non lo vedete in questo momento, perché è qui, sopra di me, leggermente fuori dall'inquadratura, ed è perfetto, per questo tipo di ripresa. Essendo infatti, un microfono direzionabile, posso puntarlo, proprio sul mio viso, sulla mia bocca, e riesce a captare, perfettamente, quello che dico, senza troppo eco, cosa che succederebbe, per esempio, se mettessi un Blue Yeti, qui alla stessa distanza. Questo qui, in particolare, è un microfono Sennheiser, che costa parecchio, non ve lo consiglio, ovviamente, se siete alle prime armi, a meno che non abbiate soldi da spendere, buon per voi, e per tenerlo così, a quest'altezza, utilizzo una normalissima asta per microfono, di Amazon Basic, pagata a 10 euro, e per registrare, invece, utilizzo un dispositivo, chiamato Tascam DR40. Ha due microfoni integrati, che eventualmente, posso anche usare, per registrare, però nel mio caso, lo sfrutto appunto, per registrare, il microfono Sennheiser. Lui, infatti, all'interno, ha una scheda SD, su cui viene salvato, tutto quello che cattura, il microfono Sennheiser, e in più, ha un'alimentazione Phantom, che praticamente, gli dà la carica, senza che io, devo ogni volta, stare a mettere le batterie, dentro il vero e proprio, microfono Sennheiser. Il Tascam DR40 stesso, va a batterie, però, non le uso neanche, in questo caso, perché altrimenti, ne dovrei cambiare, una a video, una ogni due video, mi costerebbe tantissimo, e sarebbe, tra l'altro, molto scomodo, per cui, dato che lo utilizzo, quasi sempre a casa, lo collego direttamente, alla corrente. Ho questo cavo lunghissimo, che passa proprio dalla corrente, tutto sotto il tavolo, e poi si collega al Tascam. Infine, collego il cavo del microfono Sennheiser, e inizio a registrare, e funziona perfettamente. Una volta finito, lo collego, semplicemente al computer, scarico il file audio, e inizio ad editarlo, sul programma di editing, assieme al video, dell'Alpha 6400. E siamo arrivati, al terzo, ed ultimo, possiamo dire, elemento fondamentale, le luci. Questo è un po' un dilemma, anche per me, perché, lo confesso, non sono un esperto, di luci. Quelle che uso io, sono quelle che trovate, su Amazon, le prime, veramente. Forse non le prime, perché queste qui, proprio, credo che non le facciano, nemmeno più, però, sono quasi tutte uguali, quelle che vedete su Amazon. è una coppia di softbox, identici, rettangolari, che, come vedete, funzionano bene. Probabilmente sarà uno, dei prossimi acquisti, che farò, però, devo cercare di capire, prima, come impostare, le luci, quali potrebbero essermi, utili, per il mio studio, che è un po' particolare, con il tetto, come vedete, che è in pendenza. Però, per iniziare, vanno benissimo, costano poco, e assieme al microfono, è sicuramente, una delle cose, più utili, in assoluto, per avere, un bel video. semplicemente, ne metto una, qui a sinistra, un'altra, lì a destra, e, insomma, mi illuminano. E l'ultima categoria, che ho deciso di inserire, si chiama extra, dove vi metto, qualche prodottino, che non sta in nessun'altra categoria, che però uso, e potrebbe esservi utile, o no, in base al tipo di video, che fate. Innanzitutto, ho un treppiede, che è fondamentale, per la videocamera. Io però, ne utilizzo due, e vi starete chiedendo, perché? Beh, perché uno, di cui non ricordo il brand, comunque ve lo lascio qua sotto, in descrizione, ha la testa fluida, e quindi, lo sfrutto, per tutte quelle riprese, di prodotti, che appunto, scorrono, magari da destra a sinistra, anche questo è molto economico, potete regolarlo, in altezza, e basta, lo uso per quello. Poi, ne ho acquistato un altro, che vi lascio sempre, qua in descrizione, che ha la particolarità, di avere un braccio, che si può estendere, in orizzontale. Quindi, è perfetto, e a me infatti, serviva per quello, per tutte le riprese dall'alto. Magari avete, dei prodotti, sopra un tavolo, volete riprenderli, esattamente, dall'alto, verso il basso, e con l'altro treppiede, non ce la fate. Mentre così, mettete proprio il braccio, in orizzontale, sopra il tavolo, e siete a posto. Altri treppiedi, che vi consiglio, invece, sono questi, quelli piccolini. Questo è di Manfrotto, questo invece, di Auki, mi pare, e sono molto versatili. Potete magari, metterci la vostra videocamera, sopra, e sfruttarli, per esempio, in un vlog, appoggiarli sul tavolo, in questo modo, per fare delle altre riprese, e in più, in alcune versioni, vi danno anche, questo adattatore, che è fantastico, per mettere il vostro smartphone. Ha una molla, quindi si mette così, all'interno, e a questo punto, potete collegarlo, a questi piccoli treppiedi, a uno dei due, uguale, oppure anche ai treppiedi, quelli grandi, che abbiamo visto prima. E l'ultimissimo prodotto, su cui vi consiglio, di puntare, è un SSD esterno. Vi consiglio lui, della SanDisk, perché è fenomenale, è velocissimo. Questo in particolare, è da un terabyte, e vedete quanto è grande, cioè, è la metà precisa, di una mia mano. Ormai, i file che sforna, l'Alpha 6400, hanno grandi dimensioni. Non posso metterli tutti, sul disco del computer, perché non c'entrerebbero nemmeno. Quindi, li metto qui, edito il video, direttamente da qui, cioè, è come se fosse il disco interno del computer, ha la stessa velocità, non ho nessun tipo di lag, in più, lo potete portare dovunque, fare video dove volete, ed è una salvezza. Questo è stato uno dei migliori acquisti di quest'anno, e ve lo consiglio tanto, anche questo è il link, qua in descrizione. E con questo video, credo di avervi detto, tutto quello che so, praticamente, sulle attrezzature video per YouTube, su quelle che uso io, quelle che ho avuto, e quelle che vi consiglio. Spero davvero, che questa lista, vi sia stata d'aiuto, che vi abbia chiarito un po', le idee, se le avevate confuse, e che abbiate capito, soprattutto, che le attrezzature sono importanti, ma non sono tutto. Io vi ringrazio per la visione, come sempre, sapete cosa fare, seguitemi sui social, lasciate un bel mi piace, se il video vi è stato d'aiuto, iscrivetevi al canale, abilitando la campanellina delle notifiche, e detto questo, da Fede Tutorele è tutto, noi ci becchiamo, come sempre, in un prossimo video. Alla prossimo video.